C'era una volta, nella cittadina di Medford, un uomo che si chiamava Jack Frost. Grazie a tutti! Tutti i musicisti sono inaffidabili. Sì, aveva una bellissima moglie e un figlio adorabile, ma il suo lavoro continuava a tenerlo lontano da casa. Ti ho portato questa. Una tua armonica. Ce l'ho dal giorno in cui sei nato. Quando la suonerai, non importa dove sarò, ti sentirò. Ma una notte accadde qualcosa. Qualcosa di terribile. Fermati, butta la palla. Sono qui, sono qui vicino a te. Sento la sua mancanza anch'io. La sento moltissimo, Charlie. Mamma! Che si trasformò in qualcosa di meraviglioso. Sono a casa. Charlie, sono io, papà. No! Che c'è? Insomma, dovrei credere che sei mio padre. Sei stato tu a suonare l'armonica magica. Credevo che fosse una burla. Lo credevo anch'io. No! No, non è il caso. Ti dico che è papà. Tesoro. Permesso. Charlie è fuggito col pupazzo di neve. Sul serio? Questo pupazzo che aspetto ha? Tre palle di neve, due rami. Ehi! Quello è il mio braccio. Tarcheato, ma abbastanza robusto. Charlie! Sono dimagrito. Grazie di avermi dato un'altra occasione di farti da padre. La Warner Brothers è lieta di presentare Michael Keaton. Sono un gelido scherzo della natura. Kelly Preston. Non hai freddo? È ovvio che non sta parlando con me. Mark Eddy e Joseph Cross nella storia di un uomo che ebbe una seconda possibilità per diventare il miglior padre del mondo. Finché tieni qualcuno nel tuo cuore, non lo puoi perdere. Jack Frost. Arre change. Grazie. Grazie a tutti.